La migliore app per risultati e notizie sul calcio in tempo reale? OneFootball, link in descrizione, insieme al sito di crediti più veloce, economico e affidabile che potete trovare. Ragazzi ci sono i Team of the Season, quindi mi raccomando se avete bisogno di crediti, link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, signori oggi siamo qui con un nuovo pack opening, un nuovo pack opening inerente al Team of the Season della Berkley's Premier League, ragazzi, della Premier League. Come sappiamo abbiamo visto la squadra della BPL e ci sono un sacco di giocatori. Lo scorso pack opening è andato benissimo, abbiamo superato i 2500 like, quindi ragazzi se entro venerdì, che cambierà di nuovo la squadra della settimana, volete un altro pack opening, superiamo i 2500 mi piace anche oggi ragazzi. Oggi perché? Perché andremo ad aprire questi 10 pacchetti da 100.000 crediti ragazzi, quindi veramente cerchiamo assolutamente di dare il massimo supporto ai pack opening perché se vi piacciono appunto ve ne porterò tanti altri, visto che abbiamo un mese di Team of the Season appunto in cui potremo spacchettare. Ma prima di iniziare ragazzi volevo farvi vedere una cosa. Ieri sera ci sono usciti i pacchetti da 50k, i Lighting Rounds da 50.000 crediti con 12 giocatori tutti oro, tutti rari. Ragazzi guardate un po' cosa mi è uscito, Kevin De Bruyne, aspettate che ve lo faccio vedere. Eccolo qui, Kevin De Bruyne, primo proprietario, l'ho trovato esattamente ieri sera, non c'è la data di quando lo trovi, peccato, comunque l'ho trovato ieri sera ragazzi. Eccolo qui, Kevin De Bruyne, aspettate che ve lo faccio vedere. Beh è proprio il mio, mettiamo sul mercato, confrontiamo il pret, facciamo quello che volete insomma per farvi capire e farvi vedere che appunto è mio e che l'ho trovato io. Lo mandiamo alla rosa attiva per dire, il giocatore è stato aggiunto alla rosa attiva, andiamo nella rosa che ve lo faccio vedere così poi non mi dite eh ma l'hai preso da un'altra eccetera eccetera. Rosa attiva, tac, eccolo là ragazzi, eccolo là. Lo spostiamo qui, lo spostiamo in porta, lo spostiamo, cioè non in porta, scusate in panchina, lo spostiamo in difesa, lo spostiamo dove vi pare. Comunque ragazzi, il mio Kevin De Bruyne. In questi pacchetti da 100k spero di trovare Ibra, spero di trovare Hazard eccetera eccetera. Comunque già una piccola soddisfazione l'ho avuta trovando lui. Adesso vi farò vedere anche la clip insomma dove l'ho trovato, che l'ho registrato. Oltretutto ho trovato come state vedendo anche Jonas ragazzi veramente, cioè con le bandiere brasiliane. Pensavo fosse Neymar 97 come era successo poi con Coutinho ed è stato veramente una cosa bruttissima. Comunque ragazzi, adesso andiamo ad aprire i pacchetti a 100k, basta. Parliamo poco ragazzi, andiamo ad aprire questi fottuti pack da 100.000 crediti. Sono 10 ragazzi, partiamo con il primo. Primo pack, vediamo un po'. Non è un walkout, mannaggia la troia, stella grandina diciamo, sarà un 80 qua. Banega, porca boia ragazzi. Primo pacchetto che se ne va così, li vedremo tutti e 10. Shaka, Pereira, primo pacchetto che se ne va così ragazzi. Mandiamo tutto al club, qui mandiamo la lista trasferimenti, gli 83 e gli 82 che ci possono servire per le SBC come sapete. E per il resto scartiamo tutto quanto. Come dicevo sono 10 pacchetti che vedremo tutti insieme perché sono da 100.000. Non è walkout neanche stavolta, mannaggia la miseria. Portiere del Monaco, Subasic 84. Qui siamo alla ricerca ovviamente ragazzi dei TOTS, Mustafi, Silva, Modest, Depay. Beh c'era Depay, ho tanta di valutazione. Qui mandiamo sempre la lista trasferimenti per le nostre classiche SBC che farò più avanti. Continuiamo a spacchettare. Altro pacchetto da 100k. Ti prego non è walkout, ma no, ma perché? Cioè mamma mia, ma è una gioia. Qui sono già partiti 300.000 crediti e non abbiamo ancora trovato niente se non Ouedes in questo pacchetto. La Porta, Rami, Beyerin, eccetera eccetera eccetera. Consiglio e sportiello, li mandiamo la lista trasferimenti sempre per le SBC. Ma porca miseria, c'è mai una gioia. Ragazzi quarto pacchetto. Speriamo sia quello buono walkout. Ti prego stella blu, ti prego stella blu, ti prego stella blu, no. Non è stella blu, vediamo chi è, non è un TOTS ragazzi. Brasiliano, Marsello sarà sicuramente. Terzino destro, Dani Alves. Ma guarda te, Dani Alves ragazzi. Ma guarda te se il walkout deve essere Dani Alves e non... Ma porca miseria. Dani Alves mascherano Alves e non appunto un giocatore della BPL. Ma guarda te, oh. Quinto pacchetto ragazzi, quinto pacchetto. Per ora solo un walkout ed è stato Dani Alves. Uh, stella grandina, attenzione. Questo è un 86, ma tu i di, ma tu i di ragazzi, ma tu i di, blaze, ma tu i di. Del PSG. 86 e anche Mertens, 85, buoni buoni. Tutti i giocatori pappabili per le SVC perché alla fine... Mano là sarà anche ottimo. Perché alla fine dicevo, venderli non è che ci si facciano tutti sti crediti visto che... Tanto servono per le SVC. Sesto pacchetto ragazzi, non è walkout neanche stavolta. Madonna mia. stella grandicella, cc. Non è un 84 questo, Bruno. Oh reggett, oh reggett. Cioè qui bisogna che lo troviamo, eh. Cioè dai. Ieri è stato bello che ho trovato De Bruyne ieri sera. Non registravo perché era tardi, ragazzi. Heighton Raul se ne ha fatto uscire tardi. E non avete visto la mia reaction in live però, cavolo. Dai porca miseria, madosta. È la grande if, vediamo chi è. Esterno sinistro. Chi cazzo è? Suleimani. Yuhuuu. Ragazzi, Suleimani. Abbiamo trovato un if. Ma dai, porca valero, Perez. Ruffie, 85, Trap, Giuliano, Tanas. Qui abbiamo trovato tanti 82. Comunque per adesso non ne vale la pena. Ci abbiamo speso 700.000 crediti, ragazzi. Abbiamo aperto 7 pacchetti, se non sbaglio. 8, 9, 10. Adesso ne mancano 3, ragazzi. Ne mancano 3. Apriamo un pacchetto da questo qui, dai. Apriamo questo pack qui, ragazzi. Vediamo di magari cambiare un po' il giro della sorte. Minchia, che schifo. Cioè, veramente. Che cazzo è? Rassagna. Questo è il pacchetto tutto BPL. Non abbiamo trovato un cazzo. Vediamo se nei prossimi andrà meglio. Comunque adesso prendiamo quello da 100.000. Ti prego, ti prego. Il Tots Walkout. Ma dai, ma. Cioè, 10 pacchetti stiamo aprendo. Ne abbiamo aperti 9, ragazzi. Cioè, 8, scusate. 8 pacchetti e non abbiamo trovato niente. Cioè, così non si fa, veramente. Così non si fa e non è concepibile questa cosa. Che spendo un milione di crediti e non mi fai trovare niente. Va bene che ieri ho trovato già il buon De Bruyne. Stella Grande, If, ragazzi. Anche stavolta questo è Rulli. Portiere, vediamo un po'. No, Lux. Scusate, che Rulli? Cazzo dico. Lux, If. Oltretutto ce l'ho già. L'ho trovato ieri sera, ecco, insieme agli altri. Ma dai, ma dai, ma dai, porca miseria. Ma dai, cioè. 10 pacchetti, ragazzi. Abbiamo aperto 9 pacchetti, scusate. 9 pacchetti e non abbiamo trovato niente incredibile. L'ultimo pacchetto da 100.000 crediti, ragazzi. Usciamo, rientriamo, facciamo qualcosa per smuovere un po' la situazione qui. Per smuovere un po' la situazione. Ultimo pac, ragazzi. Lo apriamo. Ti prego, il walk out almeno nell'ultimo. Ma almeno nell'ultimo, fammelo trovare. E dai, anche qui Shaka, doppione, perché l'abbiamo trovato anche prima. Patrizio, Begovic, Pirlo, Bender e tutti gli altri scarsoni. Madonna mia, oh. Non mi è piaciuto come pick opening. Ieri sera mi sono divertito, ragazzi, perché comunque ho trovato De Bruyne. Ma, 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 adesso proprio non mi è piaciuto. Allora, ragazzi, vi lancio questa sfida. Intanto 2.500 mi piace per un nuovo pick opening. Questo per forza e dentro venerdì che c'è appunto la BPL ancora ve lo porto. Ma se superiamo, ragazzi, i 4.000 mi piace, i 4.000 mi piace, io sul mio secondo account ho 50 pacchetti gratuiti tra pacchetti mega, solo giocatori, tutti oggetti rari, eccetera, eccetera, ragazzi. Ne ho ben 50 e se, appunto, superiamo i 4.000 mi piace, ragazzi, vi porto un video dove ve li apro tutti. Volevo tenerli un po' per la liga, ma se superiamo i 4.000 mi piace, ragazzi, ve li apro tutti veramente. Quindi, per oggi è tutto. In descrizione trovate il sito di credit. Se avete bisogno di credit, ragazzi, mi raccomando, c'è il sito di credit con il codice home. Avrete, appunto, un piccolo sconto. Se siete nuovi iscriviti al canale, in descrizione, comunque, tutti i miei social network, soprattutto Instagram. Seguitemi, ragazzi, che nei prossimi giorni succederanno delle cose pazzescamente incredibili. Grazie, grazie di supporto, grazie di tutto. E come sempre, ci vediamo. Grazie, grazie. 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 Grazie.